120 anni di storia, 27 corsi di studio, scambi internazionali con più di 150 università di 42 paesi diversi. Situata nella città di Xi'an, famosa per l'esercito di terracotta, la Jiaotong è una delle università più antiche e prestigiose della Cina e una delle più internazionali del paese, sede strategica e partner del Politecnico da ormai diversi anni, nel 2019 Xi'an diventa interlocutrice privilegiata del nostro ateneo grazie alla creazione della Joint School of Design and Innovation Center. Studiare nella nostra Joint School di Xi'an significa immergersi in un ambiente multiculturale, innovativo e ricco di possibilità di confronto, non solo tra studenti di diverse provenienze ma anche tra i membri dei vari gruppi di ricerca che lavorano ai differenti progetti. Con una doppia laurea Jiaotong Politecnico avete la possibilità di operare come professionisti sia nel mercato europeo sia nel mercato cinese, quest'ultimo in continua e costante espansione. Il programma di doppia laurea che proponiamo vi fornisce le competenze e le capacità utili per la vostra futura professione e inserimento nel mondo del lavoro. Sarete architetti con una buona conoscenza della storia, capaci di progettare alle varie scale, intervenire sul costruito e con buone nozioni di tipo tecnico. La città di Xi'an ha una storia antichissima di più di 3.000 anni e la sua notorietà deriva soprattutto dalla presenza del famoso esercito di terracotta. Xi'an è ancora oggi una città viva e creativa, dove si respira un'area di innovazione e intraprendenza. In questi ultimi anni la città è anche oggetto di notevoli investimenti governativi che mirano a farne una nuova e prestigiosa metropoli. A Xi'an il costo della vita è piuttosto basso e trovare un alloggio ad un prezzo ragionevole è davvero facile. Lo stesso vale per i ristoranti, i trasporti e molti altri generi di necessità. Tutto assolutamente a portata di studente. La doppia laura dura 5 semestri per un totale di 150 crediti. Frequenterete il primo anno presso il Politecnico e il secondo anno presso la Xi'an Jiao Tong, dove tutti i corsi saranno in inglese. Potrete decidere di svolgere il primo semestre del terzo anno in Cina o in Italia. Una parte dei corsi del secondo anno nella sede cinese saranno tenuti da professori del Politecnico. Durante il quinto semestre è previsto il tirocinio e lo sviluppo della tesi, che vi consiglio di svolgere in Cina per consolidare le vostre relazioni in ambiente cinese. La tesi sarà seguita da relatori di entrambe le università e discussa in una delle due sedi in collegamento videoconferenza. La laurea in architettura in Cina non è abilitante di per sé ed è necessario fare un esame di stato per poter svolgere la professione. In Cina però i laureati in architettura lavorano in grossi studi di progettazione per lo più statali, all'interno dei quali sono pochissimi gli architetti abilitati a fermare i progetti. La doppia laurea potrà quindi consentirvi di intraprendere costruttive relazioni con questi grandi studi, sia rimanendo in Cina sia continuando a vivere in Italia. Per maggiore informazioni potete scrivermi oppure potete contattare l'ufficio di doppia laurea. Vi aspetto tutti a Sian! Grazie a tutti!